Pallocco le palle, appunto, allora non fai niente, se fai niente sai bene in questo paese, ecco. Palle, ogni volta sembra che sono riuscito a convincerti, a restare in Italia e tu di nuovo mi fai questa scena. Io non lo so, Gustavo, cioè, mettiti nei miei panni. Sì, è ora che gioco le mie ultime carte, devo farlo parlare con una persona più saggia di me. Io penso che ognuno di noi ha dei doveri. Il momento nel quale uno abbandona il posto dove vive, dove lavora, e l'abbandona di sua propria volontà, attenzione, non perché è costretto ad abbandonarlo, secondo me questo equivale a una diserzione, perché andandosene via lo spazio che noi lasciamo viene inevitabilmente coperto, occupato, proprio da quello da cui noi stiamo scappando. Grazie a tutti.